Ciao amici di Italia Talk Games, buongiorno, sabato 15 ottobre, buon fine settimana, dalle mie parti c'è un tempo meraviglioso, sembra primavera, spero anche dalle vostre parti, anche se al sud purtroppo ci sono stati problemi seri con alluvioni e quant'altro, speriamo che la situazione torni alla normalità quanto prima in tutta Italia. Allora, oggi ho da raccontarvi un po' di cose, prima però, ragazzi, questa sera alle 21, se non potete vedere subito, vedetelo in serato, domani c'è l'appuntamento per riuscire ad arrivare in divisione 2 nel mio campionato. Mancano 6 punti, se state seguendo la run in divisione 3, gioco due partite, diciamo che è il primo match point per arrivare in divisione 2, dopo ne avrei altre due ancora, però magari se si riuscisse a chiudere stasera la faccenda sarebbe meglio, anche e soprattutto per la mia salute, che quando si arriva a questi momenti di tensione va un po', iniziano ad avere il respiro equilibrato e stabile. Quindi, mi raccomando, venite a tifare sul canale YouTube Italia 2 Games alle 21, questa possibilità di tornare in divisione 2, non salgo fino alla divisione 2 dalle primissime stagioni su PC, in eFootball 2022, vediamo se ci riusciamo. Mi serve il vostro tifo, mi raccomando, venite a vedere il video. Poi, i soliti 4G ragazzi, fate scattare il contatore, dai, mancano 3-4 persone per arrivare a 13.300, dai, se non siete ancora iscritti al canale perché magari ricevete notifiche da altre parti, iscrivetevi. Se volete iscriverti dalle altre parti, tipo Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, fatemelo sapere con un commento e vi giro tutti i link. Grazie se vi vorrete abbonare al canale, grazie se farete una super offerta o chiamate la donazione, chiamatelo super grazie come volete, grazie. Tipo cose di ieri, tipo quella dei punti, su cui adesso torneremo. Ovviamente c'è l'aiuto dei segnalatori seriali, ma si crea anche una community con un punto di riferimento, che è il canale YouTube di Taliato Games. Quindi grazie per le vostre donazioni, a chi le ha già fatte e a chi le farà, e grazie a tutti coloro che faranno acquisti su Amazon, passando per i link di affiliazione, presente all'inizio della descrizione del video. Ve lo dico sempre, a voi non costa un centesimo di più, piuttosto che andare in un page o nella app di Amazon direttamente. Se cliccate lì e fate gli acquisti dopo aver cliccato lì, una piccolissima parte va al nostro canale. Veramente è molto importante questa cosa e poi, ripeto, a voi non costa un centesimo di più. Quindi grazie, 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 grazie. Allora, oggi ho da parlarvi di tre cose, perdonate. La prima, voglio tornare un attimo al video di ieri, su questo qui, eventi, campagna Facebook, i Football Point. Le domande che sono arrivate il più frequentemente sono state, anzi tre le domande. Uno, ma io ho il Konamid e non mi ha dato i punti, non basta entrare al Konamid, bisogna andare a questa pagina. Il link è presente nel video di ieri, nella descrizione del video, quindi basta andarlo a cercare. Se non lo trovate ve lo giro io, mi mandate un commento. La seconda domanda era, ma possiamo stare sicuri, è una campagna Konami? Sì, ragazzi, è una campagna Konami, altrimenti non l'avrei girata. Mi sono preso tutte le premure del caso, non facevo il kamikaze perdendo di credibilità e tutto quanto. Ho controllato tutto. Terza domanda, ma come mai Konami non l'ha promozionata? La spiegazione che provo a dare, ma non è ufficiale, è che siccome è una campagna ACL, Asian Champions League, probabilmente l'hanno solo promozionata in Asia, in Giappone e in altri paesi asiatici. E come tale, forse, presumo io, non l'hanno molto promozionata in Occidente. L'unica spiegazione che sono riuscito a darmi, anche perché la pagina mi veniva tradotta direttamente al giapponese, presumo che possa essere questo, visto che ci sono altre campagne da 100 punti, eccetera, con la visione di partite in Giappone, eccetera, eccetera, probabilmente era una campagna che loro avevano pensato solo per l'Asia. Quindi, vabbè, non succede nulla, è campagna aperta, si può fare, quindi l'abbiamo fatto. L'altra novità, invece, ufficiale, è una notizia interessante, parzialmente interessante, dopo mi spiego. Modifica il calcolo classifica campionato di football. A partire dalla fase 3, che inizierà il 20 ottobre, quindi adesso abbiamo la certezza che giovedì prossimo comincia senza nessun tipo di pausa, introdurremo una nuova specifica di calcolo della classifica per la divisione 1 del campionato di football. La nuova specifica di calcolo serve a regolare il grado di fluttazione della classifica, con l'obiettivo di offrire un'esperienza più equa e piacevole nel campionato di football. Grazie per la comprensione, ci auguriamo che la nuova fase ti entusiasmi. Allora, questa è una buona notizia, sempre che il nuovo sistema di calcolo sia più interessante del precedente. Staremo a vedere dal 20 ottobre come sarà. In tanti, e giustamente, richiedono che la valutazione possa essere applicata a tutti i giocatori, e non solo a quelli della divisione 1, che sono lo 0, qualcosa. Bisognerebbe iniziare un po' a dare a tutti una valutazione, perché è un modo in più per mettersi alla prova e per vedere un po' il proprio valore, oltre al salire di divisione. E ve lo ricordo di nuovo, ore 21 stasera, mi raccomando, fate il tifo per me, che sarei davvero contento di tornare in divisione 2 dopo tanto tempo e per la prima volta su PlayStation 5. Quindi speriamo che questo sistema di calcolo sia migliore, ma speriamo che Konami la introduca anche per gli altri giocatori. Magari non per tutti, ma almeno chi arriva alla divisione 6, alla divisione 5, per renderlo un pochino più popolare e democratico, perché la divisione 1 sono davvero pochi, ripeto, lo 0, dei giocatori, e quindi sono davvero una ristrettissima minoranza. Staremo a vedere comunque come sarà questo nuovo sistema di calcolo, e speriamo che migliori davvero un altro tema piuttosto contrastato, molto criticato anche in questi mesi di e-football. Ultima cosa, volevo tornare sul discorso della partita Mico, non tanto in sé, ma perché una delle domande più frequenti che mi arrivano in privato o sui social è ma io ho PC, un mio amico Xbox non possiamo giocare, io ho Xbox, un mio amico PlayStation non possiamo giocare. Purtroppo il crossplay ancora non è stato implementato da Konami. Si spera, si pensa, si vocifera, cioè vi sto facendo tutti questi termini per dirvi che non c'è nessuna ufficialità, sono indiscrezioni che tra l'altro ho avuto dai miei amici di PS Old School, i ragazzi che organizzano le varie live insieme a VGL di Nicola Smorgese, hanno detto, hanno avuto indiscrezioni secondo cui il crossplay non dovrebbe arrivare a dicembre, ma dovrebbe arrivare a fine novembre. Ora, io lo ribadisco, niente di ufficiale in alcun modo, però speriamo che questo crossplay arrivi perché sarebbe una possibilità in più per gli amici di giocare, anche se hanno piattaforme diverse, può capitare, perché seppur la maggior parte della community di football sta su PlayStation, ci sono community più di nicchia, ma esistenti, sia su Xbox, sia su PC. Staremo a vedere ragazzi, perché al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Konami, se non un generico, che il crossplay arriverà, ma anche la Coop arriverà, ma anche la Master League arriverà, ma non si sa ancora quando, e quindi al momento prendete il tutto come un'indiscrezione. Un altro elemento, quindi quarto argomento, ma mi sono dimenticato di fare una slide per questo, è riguardo a tutto l'evento International Cup e tutto quanto, che in tanti non hanno ben capito il funzionamento e ci sono varie notizie erronee che stanno circolando in rete. Ora, io ho fatto un video e vi confermo quello che era presente lì e lo potete andare a vedere di giovedì mattina. Però effettivamente un po' di confusione le spiegazioni di Konami le hanno create. Quindi io per il momento non vi dico niente di più, vi dico di andare a leggere le pagine ufficiali, ma sono così complicate che servirebbe, non lo so, una laurea in organizzazione del lavoro, sociologia dei tornei e-sports e quant'altro. Sto scherzando, ma per dirvi che l'hanno un po' fatto troppo complicato. Io quello che ho sostanzialmente compreso è che le prime due fasi saranno per i giocatori che sono di un certo livello. La terza fase, i goals galore, saranno per tutte. Dovrebbe valere per tutte le piattaforme. Per partecipare, io così ho capito, e questa è un po' la domanda, bisogna mettere come squadra base la nazione che si vuole supportare, e mi auguro che tutti gli italiani supportino l'Italia, se no siamo freschi, e come tale dovrebbe essere questo, tutto questo. Però nelle prime due fasi riguardano soprattutto i giocatori di livello 1. La terza fase, quella del goals galore, invece riguarda tutti, e lì assolutamente mettete come squadra base, squadra base significa, sapete la squadra che avete per Dream Team come base, come maglietta, eccetera, eccetera, ecco, dovreste scegliere l'Italia. Da lì si capisce l'Italia. Qualcuno dice, ma secondo me basta mettere una squadra italiana. Io leggo lì la nazione, però dopo, se è spiegato male la Konami, io questo non so dirvelo, lì capisco nazione. Tutto questo è il 20 ottobre, ma ripeto, se non fate parte delle divisioni 1-2, non è tanto importante dal 20 ottobre, è più importante successivamente a novembre, quando ci sarà il goals galore, e lì veramente tutti i giocatori sono importanti. Comunque, non appena ci saranno novità, non appena ci saranno chiarimenti e conferme, io ve le darò qui, come sempre, sul canale YouTube di Italia Top Games. Vi ringrazio ancora per essere arrivati fin qui ad ascoltarmi, vi ringrazio per i 4G di prima, e quindi questo è il 5G, per l'attenzione che avete dato a tutte le mie parole. Io vi do appuntamento, salvo Breaking News, questa sera alle 21 per il campionato, fate il tifo per me, perché sarei davvero contento di tornare in divisione 2. Buona giornata, buon fine settimana, ciao!